Tanto c'ho un atto per imparare, si è? Allora, prossimo brano, è un brano musicale del gruppo musicale rock britannico Queen, Queen, famosissimi. Questo brano è stato pubblicato il 31 ottobre del 1975 come primo singolo estratto dal quarto album di studio del gruppo che si intitolava The Night of the Opera. Oteve subito un enorme successo, rimanendo al ventice della United Kingdom Single Chart, che dico parole povere sempre di Parade del Mediolito, per ben nove settimane e arrivando a mettere più di un milione di copie nel gennaio del 1976. A quel tempo un milione di copie erano davvero trame. Raggiunse nuovamente la prima posizione verso la fine del 1991 pure dopo la morte del compianto Freddie Mercury, restando lì stavolta per cinque settimane. Signore e signori, Bohemian Rhapsody! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!